Se siete appassionati di ceramica, collezionisti o semplicemente curiosi, non potete mancare il 7 e l'8 ottobre alla Fiera Internazionale della Ceramica in Piazza Santissima Annunziata, dove 75 maestri artigiani, provenienti dall'Italia e dall'estero, incontrano tradizione, cultura e originalità. Potrete ammirare le dimostrazioni dei maestri artigiani che si cimenteranno in antiche tecniche di lavorazione della ceramica e, come ogni anno, partecipare ai laboratori gratuiti di manipolazione della creta per ragazzi e cittadini di ogni età. Un'occasione rara per un oggetto unico.